grove empire roma versione 1.3.50 con la mod delle monete limitate adesso è stato installato e stiamo caricando ricordo che questa è solamente la guida scopo illustrativo e non mi assumo nessuna responsabilità di danno uso proprio del materiale come potete vedere ho i soldi zero comunque posso tranquillamente sbloccare tutto come ad esempio qui che posso potenziare le truppe e come vedete avevo soldi zero e ora più spendo e più soldi e più soldi mi rimangono ora vi faccio vedere eccoli che c'ho 410 monete ora mando via l'ondata e come vedete funziona tutto sotto il video lascio il link per il download spero che vi piaccia lasciate un like e iscrivetevi ciao